Siamo qui con Marco Daniello, 26 anni di Taranto, campione di nuoto e questa sera presentiamo all'interno del premio Moda nella rassegna collaterale Donne in trasformazione voluta dalla direttrice artistica e curatrice d'arte Felicia Curci il libro dedicato proprio a Marco Il mio tuffo, nei sogni, Marco Daniello, una storia di sport e amicizia e la tua biografia sostanzialmente Abbiamo detto 26 anni Tarantino, campione di nuoto e un ragazzo autistico che da piccolino insieme alla sua famiglia ha vissuto non poche difficoltà affinché ci fosse appunto la diagnosi di questo disturbo Oggi però c'è un riscatto perché Marco proprio ultimamente durante gli ultimi campionati italiani ha fatto incetta di medaglie Marco, tu come ti sei avvicinato al nuoto? Io ho iniziato a fare il nuoto a 15 anni in un momento molto brutto perché ero sempre solo, non avevo amici avevo solo la mia famiglia a mio fianco e avevo desiderato di morire ma l'ho chiesto a mia madre poi a un certo punto è scattata una scintilla, una fiction che si chiama Come un delfino fatta dall'albova che raccontava la storia di questi ragazzi che venivano sempre maltrattati e bullizzati da gente di pessima qualità e comunque il loro allenatore era al bova che sarebbe Alessandro Domenici hanno fatto credere in loro stessi i ragazzi per essere qualcuno e sono riusciti a partecipare alle gare nazionali e sono riusciti i vincitori con le staffette e ricordiamo che tu hai proprio conosciuto Raul Bova grazie a una trasmissione di alcuni anni fa di Mara Venier La Porta dei Sogni e siete rimasti amici per sempre però adesso i tuoi prossimi traguardi sportivi quali sono? I miei futuri traguardi sportivi ce ne sono molto importanti come a fine settembre ho le gare in mare nel Mediterraneo per water creata dalla società Mediterraneo Village a Taranto le gare invernali in Vasca Corta e tra due anni ci saranno i giochi del Mediterraneo a Taranto nel 2026 dove voglio assolutamente partecipare davanti al mio pubblico di casa che è un grande onore dipinge il rosso-blu a chiunque tarantino ha questo desiderio di fare nuoto Noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo Grazie